Valla per Russo, Russo però per Atanasio, attenzione Atanasio, entra in area da sinistra, Atanasio, piattone, respinta, di Crisa Fulli ma l'azione non è finita Continua la campagna a spingere, Calone da destra, cross, annunziante, attenzione, stop, annunziante in area, annunziante, annunziante, va sul sinistro Ancora la campagna in pressione, campagna che vuole addirittura vincere la partita Liguori, Liguori per Calone, Calone per Luccio, mette in mezzo, attenzione, Ambrosio, il tiro, rete, rete, campagna in vantaggio 2 a 1 Come potete sentire la grande esultanza di tutti i tifosi sopraggiunti Ha segnato Ambrosio Una grande giocata in area, troppo spazio per calciare, stop e sta filata di destro